Siamo arrivati a 77 processi, quando mi dici perché non ho più i soldi per mandare la casa di Milano ho pagato 730 milioni dei 105 avvocati e consulenti che sono stati necessari per arrivare ad avere poi una sola condanna criminale perché non è da crederci, lasciamo perdere. Vi dico soltanto che è una condanna per cui io avrei secondo loro guadagnato 3 milioni di tasse, risparmio e considerando che le mie aziende, quelle che io ho fondato dal giorno in cui io sono sceso in campo hanno versato l'erario 5 miliardi 860 milioni di euro, quindi vi lascio immaginare. Poi è stata presa questa sentenza come motivo per escludermi dal Senato, dalla politica e per rendermi anche incandidabile e questa è una vicenda che sapete. Io ormai sono stato abituato a resistere, per fortuna mio padre e mia madre mi hanno dato delle spalle larghe e quindi ho resistito a tutte le infamie, a tutti gli attacchi, a tutte le falsità che mi sono state tirate addosso dal bunga bunga a tutto il resto. Per fortuna adesso si comincia a capire che erano tutte balle e quindi ho mantenuto un rapporto di grande fiducia degli italiani nei miei confronti, sono ancora oggi il leader politico in testa a tutti gli altri, anche se incandidabile e non sono più naturalmente a quel 75-3% di fiducia che avevo raggiunto dopo aver spazzato via i rifiuti da Napoli e dalla campagna in 58 giorni e aver reagito in quel modo fantastico al terremoto in Abruzzo ma quello fu l'inizio della mia fine perché mentre in Europa a Bruxelles prima di cominciare si alzò Zapatero e disse prima di dare inizio al lavoro dobbiamo fare i complimenti a Silvio perché ha raggiunto un record finora insuperato. 75,3% degli italiani lo apprezzano e lo ammirano.